L'oratoria fin dalle origini svolge un ruolo fondamentale nella vita pubblica di Roma ed è tradizionalmente appannaggio delle classi dirigenti, anzi è trampolino di lancio per ogni carriera politica. L'attitudine a parlare in pubblico e il successo nel convincere l'uditorio rappresentano le doti del Virbonus, esse costituiscono i valori fondanti del comportamento della classe nobiliare assieme alla Virtus, il valore militare e alla prudenzia, l'accortezza nel prendere decisioni e nell'agire. Esemplare sotto questo aspetto la figura di Lucio Giugno Bruto a cui la tradizione attribuisce la cacciata dell'ultimo re etrusco Tarquinio il Superbo e la fondazione della Repubblica. Stando allo storico Tito Livio egli riuscì nell'impresa non soltanto grazie alle sue indubbie doti militari ma anche alla capacità persuasiva del suo eloquio. Per il civis romanus di rango gentilizio l'eloquenza è dunque uno dei requisiti fondamentali per realizzare il negozium, l'impegno politico, per confrontarsi cioè con gli altri aspiranti all'amministrazione della cosa pubblica e per percorrere le tappe del curso sonorum. Cicerone nella doppia veste di oratore e di teorico dell'oratoria si riaggancia a tale tradizione elaborando una approfondita e complessa riflessione sulla figura e sui compiti dell'orator. L'oratore ideale non è solo competente sul piano della tecnica del discorso ma è impegnato nella vita pubblica ed è al tempo stesso fornito di una ricca cultura. Per Cicerone? La parola era lo strumento principe attraverso il quale l'uomo esaltava la sua humanitas, realizzava se stesso, fondava su delle solide basi il rapporto con gli altri e dava il suo contributo al miglioramento della società. È per questo che l'oratore per Cicerone non era soltanto un esperto, un tecnico, ma era innanzitutto un uomo di profonda moralità e di grande impegno politico e civile.